Senta, mi dica subito subito, così ci togliamo il pensiero, perché un elettore del centro-sinistra deve votare Letizia Moratti o le farebbe piacere che voti per lei? Guardi, io preferirei rispondere in maniera diversa, perché chi si candida a Presidente della Regione deve rispondere a tutti gli elettori, perché risponderà agli elettori di centro-destra, gli elettori di centro, gli elettori di sinistra e anche a chi non ha votato. Quindi per me il problema non è rispondere perché un elettore di centro-sinistra deve votarmi, il problema è da parte mia di capire quali sono le problematiche che interessano tutti i cittadini della Regione e risolvere queste problematiche. C'è troppa semplificazione. Quando si dice la sicurezza è di destra, ma perché? Perché una persona, un anziano che vive in una casa popolare solo, non ha bisogno di sicurezza? O quando si dice che l'ambiente è di sinistra, perché quando crolla un ponte o c'è un alluvione, non muoiono... Certo, la frana di ischia, diciamo, non è che si muore se si è di destra e non se si è di sinistra. Esatto. Questo è del tutto evidente. Esatto, quindi guardate, bisogna superare questi schemi. Bisogna superare gli schemi del centro-destra che poi è più centro-sinistra. Ma diciamo, il centro-destra candida Fontana e questo è un fatto. Quindi magari ci saranno gli elettori di centro-destra e non si sentono rappresentati Lei dice che io devo parlare anche a loro, non c'è dubbio. Io devo parlare a tutti gli elettori, devo capire i loro bisogni e i bisogni, mi creda, non sono più di centro-destra, ma le bollette energetiche, le tematiche che affrontano le imprese nella trasformazione che devono avere per la transizione ecologica. Ma che cos'è? È centro-sinistra? È centro-destra? Cioè, sono schemi superati. Bisogna rispondere ai problemi concreti, quello è quello che io sto facendo, impostando un programma aperto, confrontandomi con sindaci, esperti, amministratori locali, associazioni di consumatori, piccole e medie imprese, artigiani. Davvero con tutto questo splendido mondo rappresentato dalla nostra regione, è con quel mondo che parlo, è agli elettori e anche a quelli che non hanno, agli studenti, ai lavoratori, a quelli che non hanno votato, perché sto cercando di capire, intercettare i loro bisogni e a quelli rispondere. Allora, ieri Matteo Renzi ha detto se domani mattina un rinsavimento complessivo porta Pierfrancesco Maiorino ad accettare di fare il vice di Letizia Moratti, a febbraio in Lombardia si vince dopo 30 anni e la regione cambia colore. Intanto le chiedo, lei il ticket con Maiorino lo farebbe? Guardi, di nuovo, sono domande politiche. Io non credo che alle persone interessi sapere se il ticket è con una persona, a parte che il ticket è riduttivo. Però le persone rappresentano mondi, perché se no semplifichiamo troppo anche qui. Le persone sono mondi, sono scelte, sono sanità pubblica invece che privata, cioè rappresentano cose, no? No, allora, no, no, scusi, sanità pubblica e sanità privata, è come se lei mi mettesse in bocca che io siccome vengo dal centro-destra, eccetera, sono per la sanità privata. No, per carità, dico che ci sono persone che rappresentano mondi. Sì, ma è vero, è vero, ma anche, guardi, mi scusi, il ticket è riduttivo, perché quando si gestisce una regione complessa come la Lombardia, che è una regione fatta da 10 milioni di abitanti, che è come un medio stato europeo, come il Portogallo, come la Svezia, si deve parlare di squadra, tra l'altro, non di ticket, e per squadra intendo persone competenti, capaci, che siano in grado di gestire una regione che ha la complessità della Lombardia, con un rapporto, secondo me, tra tecnici e politici che, secondo me, purtroppo un po' sempre conflittuale, ma che invece deve essere un rapporto che è capace di ricomprendere, come dire, la buona e la sana politica unitamente a chi è capace, normalmente, o ha dimostrato di essere capace di gestire anche situazioni complesse. Quindi, per me, benvengano tutte le possibilità di convergenza da parte di partiti, di associazioni, di liste civiche, di formazioni diverse, purché ci sia una convergenza su tematiche concrete, che abbiano proposte concrete, proposte che dicano in che tempi, con che controlli si fanno, si mettono in atto le politiche, mettendo in atto politiche che mettano insieme ambiti diversi, in modo tale che non si ragioni a silos, ma si ragioni con una capacità di capire che se si parla d'ambiente, bisogna parlare anche di... Seguo assolutamente il suo ragionamento, e provo a dirle però... Perfetto, quindi per me va bene una... No, mi perdoni, così almeno ci interfacciamo. Quando Renzi dice se domani mattina il rinsalvimento, eccetera, eccetera, non credo che stia dicendo che si prescinde dai contenuti o dal tipo di risposte che si vuole dare alla Lombardia e ai cittadini della Lombardia. Credo che però stia facendo un ragionamento di tipo pratico. E cioè stia dicendo che con il PD, che sostiene la candidatura di Letizia Moratti, si può decidere, si può riuscire a cambiare colore alla regione Lombardia, che mi pare sia il suo obiettivo. Senza il PD, mi pare che di carenze, ma lei mi correggerà, io la capisco così, la cosa si fa più complicata e più difficile. E la ragione per cui io le chiedo se a lei piacerebbe che Maiorino la sostenesse. E aggiungo, siccome Maiorino rappresenta il Partito Democratico e Maiorino dice, attenzione, il PD tendenzialmente ha più voti di Letizia Moratti, magari questo rapporto potrebbe avere come punta di diamante Maiorino invece che Letizia Moratti. Questa ad esempio è l'idea di Gori. Allora, io mi dispiace, mi scuso molto, ma torno ai contenuti. Allora, io sono aperta a confrontarmi col PD, con una parte del PD, con l'altra parte del PD, perché in questo momento, come dire, non si capisce qual è l'anima del PD, perché ci sono, eh sì, eh sì, quindi io sono disponibilissima a misurarmi, a confrontarmi su tutte le tematiche che sono tematiche sulle quali c'è sicuramente una sensibilità da parte del PD, quindi dall'ambiente al lavoro, anche se, ripeto, non è che il tema dell'ambiente debba essere, come dire, appannaggio del PD, così come non sono appannaggio del PD le politiche sociali e non sono appannaggio della destra le politiche di sicurezza. Quindi, apertissima a misurarmi sui temi, in maniera molto concreta e molto costruttiva. Credo che, eh, normalmente le donne hanno la capacità di fare sintesi. Lei è una donna come me e sa come quanto è difficile gestire la famiglia, gestire il lavoro. Sì, diciamo che ci alleniamo, ci alleniamo quotidianamente. Esatto, esatto, esatto. Siamo allenate quotidianamente, siamo allenate a far sintesi tra i nostri mariti, che in genere sono un po' più severi. A volte invece siamo più severi noi, a far sintesi con i figli, che sono, come dire, dei mondi ognuno diverso dall'altro. Quindi credo che questa capacità l'abbiamo e forse questo è un vantaggio in una competizione, che sicuramente può vedere la convergenza di anime diverse se si cerca la convergenza. E la convergenza sui temi, mi pare che lei dica, è il punto di partenza.